E' stata riapposta questa mattina la targa in memoria di Sandro Pertini ed è stata fatta con una cerimonia dove sono intervenuti anche i vertici nazionali e regionali, provinciali del Partito Socialista. Sì assolutamente sì, è stata fatta oggi perché domani è il giorno dell'elezione del presidente Pertini che voglio ricordare era il presidente di tutti gli italiani e non solo di alcuni, domani appunto ricorre l'anniversario della sua elezione a presidente della Repubblica, non a caso presidente più amato dagli italiani. Ma io mi sono chiesto intanto perché fare polemiche, nel senso che ci era stata segnalata la targa, erano stati presi degli accordi per fare delle manifestazioni, noi avevamo semplicemente detto che il 2 giugno lo si faceva nel pomeriggio ed è tutto scritto e documentato perché al mattino avevamo già preso un altro impegno. Tutto lì, tra l'altro erano mesi prima quindi voglio dire neanche fare le cose in fretta, però la cosa che poi a me ha dato fastidio e a noi amministratori ha dato fastidio è che qua in città ognuno poi decide di fare cosa vuole. Allora è stata apposta una cosa che è anche antidecorosa se proprio vogliamo dirla tutta, era una cosa davvero brutta per cui io ho ordinato di rimuoverla sapendo di avere già in tasca la targa. Tutto lì l'ho fatta rimuovere e poi ho aspettato la prossima occasione per, che era appunto la data dell'8 di luglio. Dopodiché io ne approfitto di questa occasione anche per salutare il senatore Bozzello. Non c'è assolutamente da parte dell'amministrazione comunale alcuna polemica nei suoi confronti, però alcuni suoi collaboratori devono capire che l'amministrazione comunale siamo noi, la città è di tutti i cittadini, non è loro e quindi si agisce di conseguenza, si chiede e quando si chiede e quando ci è stato chiesto abbiamo sempre fatto tutto. Grazie. 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 Grazie.